Come capire se un ragazzo albanese è arrabbiato? Sono 5 i punti Numero 1 E se tu vedi un albanese che inizia ad alzare le narici così, le ingrandisce, inizia a muover la testa così Ahah, 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 allora scappa Numero 2 Inizia a dire tante parole che iniziano stranamente per C, quindi C, 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 C Quando senti tante C con un albanese prendi il primo treno e sparisci che è meglio Numero 3 Hide, hide, hide Ecco quell'hide è molto diverso e devi stare attento Numero 4 Se hai litigato con un albanese e lo vedi al telefono, lì devi fare molto attenzione perché tu conosci Naruto, la tecnica della moltiplicazione del corpo Quando un albanese ha il telefono, di colpo te ne potresti ritrovare 50 di albanesi, per cui occhio al telefono 5 Se un albanese ride troppo, devi sempre stare attento perché gli albanesi non ridono mai troppo e quindi si inizia a fare Ahah, 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 ahah Puoi aspettarti da qualsiasi momento un bel cazzotto